iniziamo bene salve a tutti io sono lupetto gamer e benvenuti su questo nuovo video io oggi sono lupetto gamer se ci riesco se dura troppo smetto semplicemente se dura troppo a detto devo aspettare coerente puoi scendere questo livello è easy peasy ma gli altri saranno i si fisi beh no non saranno i si fisi perchè perchè noi siamo del mondo 2 e quindi dicevo i livelli con la lava mi stanno sul leap e abbiamo finito il primo livello quindi marbazon 2 se sono solido non ci posso fare niente ora faccio me ora faccio me fai un cuore con la mia mi guardia spero che il video mi sia piaccio perchè non lo